ciao ragazze e ciao ragazze mamma che strano girare un video dopo due anni sicuro mi fa stranissimo infatti mi trovo a disagio davanti alla telecamera con tutto che vi riempio di stories su instagram tutti i giorni e niente sono sparita è vero il mio ultimo video risale ai tempi che furono però ho avuto un periodo un po' così un po' di sconforto più che altro perché comunque giravo video nel mio tempo libero e magari non mi concedevo un'uscita o un qualcosa per girare video e purtroppo il riscontro non era altissimo e quindi per un periodo ho deciso di abbandonare il tubo e nel corso di questi anni sono cambiate tantissime cose a iniziare dal mio aspetto che come potete vedere è completamente diverso e anche per quanto riguarda diciamo la mia professione infatti torno su youtube da make up artist sono andata a frequentare un corso di trucco sono ufficialmente una make up artist e quindi ho realizzato uno dei miei sogni nel cassetto sono molto felice di questo e poi è stata tutta una conseguenza dopo l'attestato che ho preso verso giugno non mi ricordo l'anno però l'anno scorso tipo vabbè dopo questo attestato ho iniziato a lavorare perché comunque presentando un curriculum allegandoci un attestato di trucco hai una corsia preferenziale rispetto ad altre candidature e quindi ho iniziato a lavorare full time e quindi il mio tempo si riduceva sempre di più la maggior parte del mio tempo delle mie ore stavo dentro un negozio e quindi quando avevo quel giorno libero o quelle ore libere preferivo uscire con le amiche stare con il mio ragazzo la mia famiglia perché comunque le vedevo poco lavorando comunque o al corso della mia città o in un centro commerciale il centro commerciale non hai più una vita sociale purtroppo è così il lavoro al centro commerciale è così e quindi niente non avevo proprio proprio tempo io ringrazio le tante ragazze che mi hanno scritto non me lo aspettavo proprio e mi chiedevano di ritornare su youtube perché non giravo più video sinceramente non mi aspettavo tutto questo calore sono rimasta tipo sbigottita e da un lato felice che comunque anche nel mio piccolo vi ho lasciato qualcosa e niente poi cos'altro è successo nella mia vita ho avuto il piacere e l'onore di essere selezionata tra i dieci talenti in Italia dalla NYX Professional Makeup quindi ho fatto parte del progetto Moe Incubator ho iniziato una collaborazione con loro che tuttora ho e non potete capire la gioia che che ho per queste per questi piccoli traguardi cioè per me sono grandi traguardi per gli altri piccoli però io sono contentissima ho stretto tante collaborazioni nel corso di questo periodo con il mio account Instagram e sono contentissima perché nel mio piccolo trasmetto qualcosa e quindi niente oggi mi andava di girarmi un video anche perché molte di voi mi hanno scritto perché non torni su YouTube sei una persona vera i tuoi video ci piacevano perché sei una persona vera non sei costruita come tante e quindi ho detto vabbè proviamoci mi scuso per la luce mi rendo conto di una merda però non ho da farvi vedere a nulla ma semplicemente raccontarvi che fine ha fatto Mona Bunny nel senso che morte ha fatto e sostanzialmente in due anni sono successe queste cose attestato da make-up parties lavoro collaborazioni con aziende importanti eventi che mai mai nella vita sarei immaginata una roba del genere quindi sono contentissima e niente oddio scusate che come al solito io sono una delle youtuber poveracce raga mi dispiace che non sono come le altre che hanno delle attrezzature gaiarde la fotocamera top presentazioni top io purtroppo non sono in grado me ne rendo conto e mi dispiace se vedete traballare perché io ho il portatile con la mia webcam sul sul letto e quindi sto tipo così per evitare di farvi fare di farvi muovere e farvi venire il mal di testa e e niente ragazzi sostanzialmente questo è successo nella mia vita mi è dispiaciuto lasciare youtube perché comunque sono stati anni di grandi soddisfazioni anche su youtube però molte cose non le devo a youtube le devo ad altri social l'affetto che mi dimostrate su instagram tutti i giorni è bellissimo per me che mi scrivete io sono felicissima di rispondervi e e niente non so cosa dire perché sostanzialmente a parte l'essere diventata una truccatrice raccontarvi in generale quello che mi è successo in ambito lavorativo e quant'altro collaborazioni eventi eccetera la mia vita procede tranquillamente per quello che è e nulla non so veramente cosa raccontarvi di nuovo non so neanche quali video posso postarvi dopo questo questo qui è giusto per farvi capire cosa è successo e perché non sono tornata alla fine purtroppo la piega di youtube è questa nel senso si va avanti andranno avanti sempre e comunque persone con video fighi magari non totalmente veri e sinceri per una questione di interesse e quant'altro quindi io non posso cambiare il mondo e non posso cambiare un social come youtube perché è così purtroppo è così quindi di conseguenza non mi devo abbattere e devo cercare di andare avanti per la mia strada questo non è denigrare gli altri canali però sostanzialmente è così i canali più piccolini vengono sempre un pochettino accantonati anche perché io mi rendo conto tranquillamente di non potervi offrire un video strafigo un montaggio top una qualità video ottimale è un canale di il mio di svago di chiacchiere di consigli come come avete visto fino a qualche anno fa e quindi niente io vi chiedo veramente quale video vi piacerebbe vedere perché io non ho idea ragazze mi sto mettendo qui davanti per fare questo video per spiegarvi insomma che cosa è accaduto e lasciatemelo scritto insomma nei commentini che video vi piacerebbe vedere ah è uscita la campanella ho scoperto perché io la verità non sto neanche guardando più video su youtube perché non ho tempo ma principalmente preferisco instagram come social mi sembra più istantanea la cosa più reale più non lo so non so definire bene la cosa quindi sto molto su instagram e meno su youtube quindi ho scoperto che c'è una campanella da qualche parte che poi troverò che in pratica vi darà la notifica quando io caricherò un video e quindi attivatela se vi va di seguirmi nei commentini vi chiedo quale video volete vedere non lo so cosa vorreste vedere ora sul mio canale dopo questo video dove vi spiego che cosa è accaduto e niente non ve la porto a lungo perché sennò vi faccio due palle a pese non mi sembra il caso e niente ragazzi spero che mi seguirete e niente questa è la realtà di quello che è successo perché ho abbandonato youtube per questi anni e niente io vi mando un forte bacio e non vedo l'ora di leggere i vostri commenti mi potete scrivere anche su instagram magari faccio qualche sondaggio e mi fate sapere un pochettino che video vorreste vedere quindi nulla al prossimo video ciao